come diventare invincibili. Pratiche stoiche per evitare di essere feriti. Scegliete di non essere feriti e non vi sentirete feriti. Non sentirti ferito e non lo sei stato. Marco Aurelio. Quando ero più giovane, a metà dei miei 20 anni, avevo un senso di diritto molto forte, guidato dall'ego, riguardo ai miei sentimenti. Tuttavia, se mi aveste chiesto di parlarvi di me, vi avrei detto che, ovviamente, ero la persona più umile che avreste mai incontrato. Tuttavia, mi stavo illudendo. Ricordo che all'epoca ebbi un battibecco con un membro della famiglia per un lavoro che stavo svolgendo per loro. Glielo dissi, sai, mi fa davvero male che tu dica questo. Non era la prima volta che lo dicevo in risposta a un'affermazione, a una critica della mia prestazione, basata semplicemente su un'opinione. Pensavo di indossare i miei pantaloni da ragazza grande essendo onesta sui miei sentimenti. Mi crogiolavo nella sensazione trionfante di essere vulnerabile e trasparente. Sicuramente questi erano i comportamenti di una persona saggia oltre i propri anni. Che coraggio! Mi sbagliavo. La loro risposta al mio accorato soliloquio? Smettila di essere sempre così ferito. Asterisco gasp, da asterisco come osano cercare di dirmi come devo sentirmi, pensai tra me e me. Nessuno ha il diritto di farlo e sono stanca che la gente cerchi di imporre i miei sentimenti. Non posso fare a meno di quello che provo. MMM. Di nuovo sbagliato. Se volessi davvero guardare a questa situazione in termini di guerra emotiva, un attacco al mio ego, in questo caso, ero un esercito di un solo uomo contro me stesso. Non ci sono molte cose che possiamo controllare nella vita. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, possiamo controllare se siamo feriti emotivamente e a quale profondità. Per quanto non volessi ammetterlo, era il mio ego a mungere il momento, a succhiare il capezzolo di un comodo disagio. Non volevo nemmeno ammettere che l'essere ferito mi dava, nella mia mente, la licenza di comportarmi come volevo, perché erano loro a fare gli stronzi, non io. È come un superpotere che gli autoindulgenti non possiedono, e poterlo esercitare ti rende ancora più invincibile. Ho già sentito dire che prendere il controllo dei propri sentimenti è un atto di automanipolazione. Certo, lo è. Ma lo è anche lasciare che le emozioni prendano il volante del veicolo che è la vostra vita. Trovo che sia una parte importante del self-empowerment, diventare padroni di se stessi. È come un superpotere che gli autoindulgenti non possiedono, ed essere in grado di esercitarlo ti rende ancora più invincibile. Il desiderio di resilienza. Questo non ha nulla a che vedere con il mentire a se stessi, o forse sì. Per me c'è una linea sottile tra il negare e il mentire a se stessi. Tuttavia, quella linea sottile è tutto ciò che vi separa dall'ostacolare il vostro cammino. Quindi, anche se pensate di ingannare voi stessi, è ovvio che avete un forte desiderio di andare da un'altra parte della scala emotiva. Vi meritate questo sollievo. Non sto dicendo che dovreste vivere in modo inautentico. Piuttosto, vivreste come una persona che sta diventando chi vuole diventare, in modo semplice. Prima dite a voi stessi cosa vorreste essere, e poi fate quello che dovete fare. Epiteto. Quindi, se volete diventare una persona più resiliente dal punto di vista emotivo, credo che la maggior parte sia semplicemente il desiderio di diventarlo. Tuttavia, è necessaria una conversazione onesta con se stessi, chiedersi, sono io? Eh? Probabilmente sì. Ma a chi importa ora? Ora che avete scoperto di poter scegliere se siete voi o no, il vostro percorso verso la resilienza emotiva è completo al 80%. L'altra parte consiste nel rivedere i casi passati in cui siete stati profondamente feriti da qualcosa che qualcuno ha detto, forse inutilmente. Supponiamo che, proprio come nel mio esempio di vita reale, anche voi abbiate un capo che pensa che le vostre prestazioni possano essere migliori. La vostra carriera potrebbe essere molto importante per voi. Se è così, quando tornate indietro e rivivete il momento nella vostra mente, fatelo con l'intenzione di considerare la fonte. Da dove veniva questa critica? Probabilmente, 9 volte su 10, da un luogo genuino. Inoltre, quando rivivete lo scenario, prendetevi un momento per chiedervi, chi ha risposto a questa critica? Sono stato io o il mio ego? Eckhart Tolle, nel suo libro Una nuova terra, parla dell'armatura dell'ego che indossiamo e di come le nostre percezioni negative di situazioni o persone la rafforzino. Questa armatura diventa la nostra pelle, una parte di noi, e poi, senza consapevolezza emotiva, diventa tutto ciò che conosciamo, una vita vissuta sempre in difesa. Chi vuole vivere così? teso e sulla difensiva? E poi di chi è questa vita? Di voi o del vostro ego? La vostra o quella della persona a cui avete permesso di controllare il vostro modo di sentire con una manciata di parole. Se bastano le parole per cedere il vostro potere, quella corazza non serve a nulla. Anche queste fanno parte della conversazione onesta che dovete fare nel viaggio per diventare una persona più resistente dal punto di vista emotivo. Una volta individuato se si trattava di voi, e se era davvero il vostro vero io a rispondere, allora potrete riscrivere il modo in cui è andata effettivamente. Non si tratta di una revisione della storia, perché questo servirà solo per la vostra tranquillità. Quindi, sì, siete stati voi, la critica era molto probabilmente ben intenzionata. È stato il vostro ego a reagire. Riproduzione degli eventi. Ora che conoscete queste potenti informazioni, riproviamo lo scenario. Questa volta, ascoltate davvero ciò che ha detto il vostro capo, o un familiare, un coniuge, un amico. Ripetete la conversazione un paio di volte e, se necessario, scrivetela. Se lo fate più volte, comincerete ad esaturare il potere di questa conversazione su ciò che provate. Potreste arrivare a sentirvi un po' indifferenti al riguardo, assumendo un atteggiamento del tipo, beh, l'hanno detto. Non posso farci molto. Inoltre, potreste essere in grado di recepire correttamente il messaggio. Purtroppo non tutte le persone sono dotate di tatto sociale. Se sapete che questa persona è generalmente una brava persona, sapete che non intendeva fare il male che potreste aver subito, o scelto di subire in questo caso. E una volta percepito il messaggio nel modo in cui era inteso e mostrata una genuina compassione da parte della fonte, potete scegliere di credere che le cose siano andate proprio così. Quel momento rivisto si radicherà nel vostro subconscio e sorgerà al verificarsi di momenti simili, che senza dubbio si ripeteranno più volte per il resto della vostra vita. Quel momento diventa come una canzone legata alla memoria, che riaffiora quando un momento rilevante ve lo ricorda. Supponiamo che l'intento di questa persona fosse, in effetti, quello di prendervi in giro. Anche in questo caso, potete ricordare che siete il destinatario del messaggio, il vostro interprete. Dovreste comunque soffermarvi a considerare che la fonte è in carne e ossa proprio come voi. Non c'è assolutamente nulla che renda quella persona migliore di voi. Come mi piace dire, ci incontriamo tutti nello stesso posto, il cimitero. Quindi, nel grande schema delle cose, chi se ne frega di quello che hanno da dire?